Salve a tutti ragazzi, siamo qui finalmente su Dark Souls 2, come annunciato in un commento scritto sul canale di Jack97Channel Mi raccomando, visitate e iscrivetevi a quel canale Anche se non volete iscrivetevi, vi costringo, se non vi iscrivete vengo a casa vostra e vi picchio No, vabbè dai No, vabbè dai E l'ho detto due volte, è fantastico Comunque, adesso ho detto di iniziare Allora, piccola premessa, cioè piccolo aggiornamento che vi voglio dire Ho molti giochi che voglio portare su questo canale Che si alterneranno più o meno di giorno in giorno Perché se ce la faccio, perché ragazzi come io ho un esame da portare avanti quest'anno Un esame di terza media da fare E quindi, non so se ogni giorno riuscirò a farli Comunque, alcuni di questi giochi, anzi la maggior parte di questi giochi Devo comprarli, ma non temete perché tra poco li comprerò Tranquilli, tra poco mi prendo Paypal Ok, nel frattempo c'è Linus che gioca Source SD di K, non so ma cocazzo sia Direi subito di iniziare, visto che stiamo già a perdere un troppo tempo Ah beh, ragazzi io Dark Souls ho già giocato, ho già un mio personaggio E quindi, ovviamente non vi spoilererò cose future Ovviamente Stia, allora Allora, allora, allora Direi subito di fare nuova partita Ci sarà una videoclip, quindi ora me ne sto zitto Perfetto di fare nuova partita A place where souls may mend your ailing mind You will lose everything Once branded The symbol of the curse An augur of darkness Your past, your future Your very light None will have meaning And you won't even care By then By then You'll be something other than human A thing that feeds on souls A hollow Long ago In a walled off land Far to the north A great king A great king Built a great kingdom I believe they called it Drangleic Perhaps you're familiar No, how could you be? But one day You will stand before its decrepit gate Without really knowing why You will stand Bay I see you I see you I hear you And don't thank you Grazie a tutti. 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 Sì, ho messo la webcam e notare la mia espressione, certo il mio taglio di capelli. Sì, perché mi sono andato a tagliare i capelli. Ok, wait, mi metto a posto i capelli. Ok, di norma stanno meglio, solo che le cuffie li fanno sembrare un po' stani. Ma andiamo avanti. Ok, wow, ragazzi, è bellissima. Sì, un secondo, infatti, appassiamo. Sì, così va bene. Ok. Wow, ragazzi, è bellissima la grafica, davvero. E c'è gente che dice, vabbè, cioè non è tipo che esiste, però cazzo, è bella, è bella, dai. Non potete dire che non sia bella. No, volevo saltare sul lab, voglio saltare sul lab, voglio saltare sul lab, ok, ora che abbia tirato la testata, direi che possiamo iniziare. Quindi, eh, t'ho visto, ragazza, non mi sfuggì. Ok, ho un bel oggettino, moneda eugenita. Sinceramente questo non l'avevo trovato nel mio... Mi devo ripassare un po' questo, devo ripassare un po'. La vedi il passaggio. Ok, mi sono già perso, mi sono già perso, fantastico. Ah, comunque, alcune cose non me le ricorderò, perché appunto... Perché appunto ho un mio personaggio e sono tipo a livello 67, ho passato già molte cose, quindi... Eh, ok, però mi ricordo che qui c'è una fotutissima, c'è un fotutissimo cunicolo, con delle impronte bellissime. E... chissà mai cosa ci sarà più tardi. Notare come sono belle le mie sopracciglia. Ok, andiamo avanti, va. Oh my fucking... E non termino la frase, fantastico. Ti devo trovare un nome, questo qui è un... È troppo coccoloso, ti devo trovare un nome. Bob, ti chiamerò... no, ti chiamerò Bob. Bob, oh quanto ti voglio bene. Bob, tornerò più tardi quando avrò delle armi. Tu aspettami lì, eh. Ciao Bob. Quanto è carino il nostro Bob. Ah, diventeremo grandi amici. Quando sarò morto. Ma lo diventerei. Ok, dai, iniziamo. Non perdiamoci... Oh, cittino. Ok, con questa faccia da ebete... Direi che possiamo pregnant un sgetto. Ah, morirò. Ah, morirò. Morirò. Iiii. Oh, lo, 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 lo. Ok, pasta, andiamo avanti, va. Pietra liscia, piccole, setosa. Interesting. Cosa ho detto? Ho detto Inter, no, allora è giusto Allora c'è un piccolo videoclip che Cazzo all'inizio mettono un botto di videoclip e sarà tipo la La terza volta che lo rivedo Probabile, non lo so Vi lascio il videoclip Oh my, your face The face of the curse It's an undead An undead has come to play They all end up here All the ones like you You spoke to that kind old dear Didn't you? You're finished You'll go hollow Yes, you'll become one of them Hollows prey upon them Feast upon their souls This is the fate of the curse What is your name? Ok, come ci chiamiamo? Mi chiamo Barbabitroggio No Se non sbaglio questo era il nome che usò utopi per il suo pg Dark Souls Non me lo ricordo, sapete? Comunque mettiamo il nostro nome di battesimo del canale Alexander 92 baby Oh yeah Ok Confermi Si Invece tu non lo conoscevi Here's your reward For sharing It's a human effigy Take a closer look Who do you think it's supposed to be? Think back Deep into your past Yes It's an effigy of you Ok Siamo qui con la creazione del personaggio Io farò la classe del duro insieme a voi E poi farò il resto a telecamere spenti Tanto non è che ci vuole più intanto Classe Guerriero Cavaliere Maestro di spada Bandito Chierico Stregone Esploratore E discriminato L'esploratore Non è che sia particolarmente forte Però ha davvero un sacco di oggetti ragazzi Guardate Cioè Sono tantissimi E' fantastico Poi ha questo anello che Ora dannazione non mi ricordo più cosa cazzo faccia Ma Faccio qualcosa Non mi ricordo manco se fosse importante Un attimo che Radrizza la webcam Ok Vediamo un po' Si si vede meglio Ok Quindi Noi andremo con lo stregone Perché Visto che Ho un Ho un mio personaggio Che ho fatto cavaliere Ora è una sorta di mercenario Si porta presso tipo 10 miliardi di armi Si equipaggia tipo A tutti gli slot d'armi pieni Tipo Ed è una cosa OP Davvero E quindi Io direi fare stregone Perché non l'ho mai fatto Tranne Quello per La campagna di Dark Soul 2 Di Jack97 Channel Che d'ora in poi chiamerò Jack Quindi E capitolando Facciamo stregone Anche il Chirco però non è male Perché usa Miracoli E Malocchi Davvero OP Però usa anche Dell'incantesimi Dei miracoli Dio mio Ho visto un tizio Che lanciava un fulmine Tipo Zeus Allora Zeus che faceva Campanellina E lanciava un fulmine Che era una sleppa Così Grande Così Più o meno le misure Di quello che ha Rocco Si freddi Perché mi capisce Ok Allora Stregone Dono Niente Anello vitale Effigio umana Che serve l'umanità Ci capiamo Kid curativo Molto utile Io di solito Scelgo questo Perché è fantastico Osso del ritorno Seme di albero giganti Falor ascitico Oggetto petrificato Anche l'oggetto petrificato Non è male Perché Poi ve lo farò sapere In futuro In una galassia Lontana Perché sto a fare Star Wars Kid curativo Va Ok Ora Telecamera spente Mi faccio corpo Aspetto impostazioni avanzate Ok 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 Ecco il nostro bellissimo PG E scusate Ma non potevo Non mettere la pubblicità Della Bero Moretti Quei baffi Sono quelli Di quello Della Bero Moretti Dai Non potete Non ammettere Mi tranno copyright Probabilmente Ma Chi sei nel fotolo Ve lo dovevo far vedere Assolutamente Confermiamo Confermi la tua identità Sì Confermiamo All people come here for the same reason To break the curse You're no different I should think Hmm Doesn't stand a chance Whether you never know Perché non rito Oh giusto Non è divertente And count along To the kingdom But remember Hold on to your souls They're all but keep you from going hollow Oh Oh I'll fool you no longer You'll lose your souls All of them Over and over again Ok Finalmente Ora Ehi Sei per caso Il mio stregone Che andava in giro Nudo del mondo Di Jack Oddio Che poi oltretutto L'ho fatto Identico A quello Con cui gioco Di Jack Con Jack Yeah Quindi Andiamo Let's go Yes Ciao Un figi umana Oh yes I like it Ok let's go Let's fucking go Uiii Ecco Ho fatto una caduta fantastica Allora Parlerò molto Con i personaggi Perché Perché aiuta moltissimo Con la lore Cos'è la lore? La trama C'è quello che ti fa capire Più o meno Quello che ti fa capire Più o meno La trama Eccetera Già Ma molti Nomi Storia Lore Lore Trama Spariamo L'hanno detto Le cicedizie Perché sta cercando di spezzare Una maledizione Di cui non so nemmeno Cosa sia In realtà Lo so Ma voi non lo sapete Comunque non ho ancora finito il gioco Ciao Milliped Oh my god Si Sono le guardie del fuoco Va bene Ciccia Ehm Oh Ok Ciccia Sì Sì Deperimento Oh Accendimi Dammi 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 Paglia Dammi Qualcosa Fammi Accendere C'è Già Sfocato Mi sospicato Aiutami Ehm Dopo questa scena Da fuoco In deperimento Possiamo andare avanti Sono sorelle Ecco Erano 4 Io Allora Non ho ancora capito Se quella all'inizio del filmato Se siete state attenti Ve lo ricorderete Quella cicciatizza che stava Facendo la maglia O quel cavolo che era No non la maglia Vabbè Stava Aveva una strana ruota E che ci parlava Lì De Drangleic Eccetera eccetera Quindi Non so se Lei O E' morta Ok Stavo guardando la tv nera E' ispirante Vabbè Mi dici qualcos'altro? No Non mi dici Non mi dici nulla Voi vecchiettine Non ci parlo Perché ridono e basta Fala Io non so cosa ci trovano Di divertente Ok Andiamo E siete Siete stati attenti Per la seconda volta Vi ricorderete di Bob Il gigante Non è un gigante Ma è un bisonte No non è almeno quello Andiamo l'antima Bob Ciao Bob I like you Bob Ok Bob Mi dispiace Ma volevo vedere un attimo Una cosa Ok Mentre A due mani quanto faccio No ok Lo fa sempre A un cosa Bobby Oh my god No 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 Bob Nein Sto unendo inglese Con tedesco Yeah Allora Oh my god Bob Non è educato Dare le spalle ai propri compagni Bob Ehi Non vedete Studi Perché sto parlando Come Rex e 91 Iscrivete assolutamente al suo canale Se volete ridere E seguire una persona Che fa scassare È la stessa cosa Vabbè Comunque Vabbè Addio Bob Mi mancherà Così Andiamo avanti Bellissimi C'è la Proprio come Deprimersi Nel frattempo Scusate Se bevo un attimo Pubblicità Sante Sant'Anna Al limone Mi devono pagare Ora Scusate Scusate Ma Ho una seta assurda Ah Ok Alcuno di voi Mi starà dicendo Ah Figlio De La figlia De Troia La voglio Io E te Tu non te lo meriti E sto parlando Buon coglione Vabbè Cioè Semavo misto Tra Napoletano E Il padrino Alex Ma cosa T'ho fatto Io Per merita Nesto Dispetto Tornato De Rispetto Demo Ricciotto Demo Best Padrino Ever Ok Direi di andare avanti E chiudere questo video Perché non ne posso più Sto già impazzendo E Non siamo Siamo Manco all'inizio Tanassone Impazzesco Per nulla Che Minchia Quante figo L'animazione Del fuoco Che va Cos'è Se Ma va Un Non so Una fontane Che va Che vuoi Fogli Artificio Vabbè Vabbè Andiamo avanti Riposiamo Allora Viaggia Possiamo viaggiare Armonizzare Le incantesime Vabbè Bruciare Ecco Non bruciate mai Le figie umane Mai 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 A meno che Non volete Non volete evitare Che in quel Falò Che Nell'area Di quel falò Non Voi non Veniate Tipo Tipo In vasi Ma intanto Non c'è nessuno Che invada i monti E spesso Sono delle pippe Almeno O sono io Che sono Pi Non ci ho mai Fatto caso Comunque Non è Non c'è Molta C'è Che invada i mondi Tranne me No Vabbè Scherzo Dai Non è vero No dai Scherzo Quando invado un mondo Però Tipo Prima di ucciderlo Me ne ritorno al mio È un principio morale Non voglio uccidere Gente Gente così No Perché Ho avuto un attimo Questa idea Di fare tipo Mi sono unito A un patto Perché Sto cercando Di addentrarmi Nel mio personaggio Nel suo carattere E quindi Lui Non uccide Tipo i poveri E Robbe così E il patto Lo scopriremo Più avanti Perché mi unirò A quel patto E Mi piace molto Per come Come mi sto Atteggiando Con quel pg C'è Abbastanza bello Comunque Non bocciate mai Le fgi giovane Però Se Se tipo Bruciate un'effigio umana Oltre Vabbè Il lato positivo Se si può dire Positivo Vabbè Del fatto che Non vi potranno Invadere Ci sarà il fatto che Molto raramente Voi vedrete un segno D'evocazione Cosa sono Di segno D'evocazione Quelli che Quelli che Ti permettono Di evocare Un fantasma Alleato Ovvero Un personaggio Un giocatore Online Di un altro Luogo Dark soul 2 Dark soul E' sempre Online A meno che Non ti stacchi Vai offline Tu Quindi Usciamo Vai Ok Io direi che possiamo Chiudere qui il video E Pop 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 Ok Allora Ecco l'oggetto Ok Possiamo chiudere quel video E ragazzi Da Alexander92 Tutto Spero che questo video Vi sia piaciuto E ci vediamo E un prossimo Video gameplay Oh yeah